GF VIP 7, Davide Donadei rivela, io e Chiara Rabbi ci incontrati e le ho dimostrato che non l'ho mai tradita. Durante la permanenza di Davide Donadei nella casa del grande fratello VIP si è parlato molto dei suoi presunti tradimenti nei confronti di Chiara Rabbi. La donna che gli è stata accanto per circa due anni. Insinuzioni che sono state avallate qualche tempo fa da Arianna Gianfelici. L'ex allieva di Amicini infatti nel corso di un'intervista aveva dichiarato di aver avuto un flirt con l'ex tronista di Uomini e Donne quando stava ancora con la Rabbi. La stessa Chiara ha sempre fatto intendere che la relazione sia finita per i tradimenti dell'uomo. Poco fa però, attraverso una storia su Instagram, Davide Donadei ha voluto smentire tutte le indiscrezioni che si sono rincorse nel corso dei mesi. L'ex VIP pone ha rivelato fra l'altro di essersi rivisto con la sua ex. Si visul meu nu are limite, zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile, să fac totul ca la carte să rub rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel, trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând, nici un curcubeu, dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Si-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai intarziat deja. Arunca spate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu stiu deja, că vreau cu totul altiva. MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE!